Si è celebrata questa mattina nella cattedrale di Lecce, in Piazza Duomo, la cerimonia religiosa in onore di San Sebastiano, santo patrono della polizia locale. La messa è stata ufficiata dall'arcivescovo metropolita di Lecce, Monsignor Domenico D'Ambrosio, e ha visto la partecipazione di tutte le autorità civili e militari della provincia, il prefetto Giuliana Perrotta, il sindaco di Lecce Paolo Perrone, il procuratore della Repubblica Cataldo Motta. Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti, sindaci o assessori delegati di più di 60 comuni della provincia di Lecce, con la presenza dei rispettivi gonfaloni, nonché le delegazioni delle polizie locali della provincia. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti gli elogi al personale della polizia locale dei comuni della provincia, che si è distinto nel corso dell'anno 2013 per particolari azioni operative, di indagine o di protezione civile. È stato il comitato tecnico del COP ad effettuare un'attenta valutazione, decidendo di premiare le azioni più significative e meritevoli. Sono stati inoltre rilasciati attestati di encomio al personale della polizia locale andato in pensione nel corso del 2013.